Eminenza, 35 anni di Toscana oggi, 35 anni di un settimanale che vuole raccontare le diocesi della Toscana. Le diocesi della Toscana e lo sguardo cristiano sui problemi della Toscana, perché tutte e due queste cose sono importanti. Da una parte raccontare quello che noi siamo come comunità cristiana per tutti, ma dall'altra anche dare un giudizio che la fede ci propone sui fatti e sulle situazioni di vita delle società nelle quali le nostre chiese sono inserite. Quindi tutti e due questi aspetti mi sembrano importanti e ben serviti in questi 35 anni da coloro che hanno portato avanti il compito appunto di tenere insieme le diocesi della Toscana su un progetto comune che rappresentasse quindi la Chiesa di fronte a tutta la Regione. Quanto è importante per una diocesi avere una voce su un media? Direi anzitutto renderci conto che oggi la comunicazione se non è mediatica rinuncia in gran parte a se stessa perché oggi gran parte di quella che è la trasmissione delle informazioni e dei giudizi passa attraverso i media. Quindi rinunciare a media significherebbe per noi rinunciare alla nostra stessa missione in questo momento storico. Quindi è uno strumento oggi indispensabile per mantenere viva la missione della comunicazione del Vangelo che è il nostro compito nella storia. Bene, grazie.